Buongiorno papageni, da quanto tempo è che non ci vediamo? Tanto tanto tempo, piango ovviamente e benvenuti in questo nuovo video, come potete leggere dal titolo è un vlog e sono contenta di dirvi che starete come tutto il giorno, mi dovete sopportare ovviamente con le mie pazzie, con la mia giornata e niente, spero che vi divertiate, spero che la passate bene, vi auguro un bellissimo giorno, una fritta immensa, i capelli guau belli e niente ragazzi, noi ci vediamo dopo Bene ragazzi, sono in camera mia, c'è qui il mio fufi, vestito e bene, volevo dirvi che sono le 11.40 più o meno è arrivata l'ora di preparare il pranzo e io sto preparando già praticamente gli spaghetti al sugo troppo buono, troppo buono e sono venuta in cameretta a dirvi questa cosa perché mia mamma sa quando andava dal telefono non mi sembrava il caso di parlarle sopra o comunque di farvi sentire i suoi discorsi e niente, vi faccio vedere cosa sto cucinando e non mi sembrava il caso di farvi sentire i suoi discorsi una grande maratona di frattini The Liars mi sono guardata 10 puntate in una tornata buongiorno papageni, siamo qui con il seguito del vlog allora ieri non ho chiuso praticamente perché ero stanca, mi sono svanita mi sono sparata tipo, non so quante puntate di... stavo dicendo di Grey's Anatomy puntate di Prattini The Liars e ne ho viste 11 quindi figuratevi, tutto il giorno stai dietro a quella serie televisiva poi mi sentivo gli occhi così, oddio allora è stata a dormire mi sono svegliata stamattina e ho fatto colazione e tutto quanto, mi sono lavata e ora sono di là che mi faccio un po' di acqua all'oro o vedi tisana calda e essendo che non ho tipo le tisane che vorrei ok la lucina degli occhi mi faccio acqua all'oro che è anche depurativa, mi pulisce lo stomaco e tutto quanto visto che ho mangiato un po' di schifezze in questi giorni e ieri ho avuto anche dei bruciari di stomaco si vede che ho lo stomaco delicato in questi giorni e mangiando magari in un determinato modo non mi aiuta quindi ora andrò giù di minestrone, riso in bianco, cose tutte in bianco diciamo e niente, niente, niente quindi volevo fare praticamente il vlog di ieri ma era un po' diciamo un po' corto è stato un vlog casalingo quindi ho detto vabbè dai stamattina continuo il vlog continuiamo il vlog di ieri facciamo tipo i due giorni no? sabato e domenica quindi bene ragazzi ora vado a bermi l'acqua all'oro ve la consiglio tantissimo è depurativa, fa digerire veramente è buona basta che mettete a bollire un po' d'acqua una fetta di limone delle foglie di alloro spezzettate e voilà a posto ragazzi ci vediamo dopo ok ragazzi la mia acqua all'oro è pronta e ora vi faccio vedere il contenuto come vedete la mia tazza personalizzata bellissima fatta dalla mulino bianco è arrivata ovviamente dopo sei mesi ma è valsa la pena aspettare acqua fetta di limone e le foglie di alloro sempre ragazzi io e mia mamma siamo incastrate con la serie televisiva stiamo guardando ancora Pretty Little Liars siamo alla quinta stagione quattordicesima puntata a presto a presto a presto Grazie a tutti. 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 E niente, noi vediamo la buonanotte e ci vediamo con un altro video. Buonanotte. 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 Buonanotte.